Ciao a tutti! Eccoci qua con il nostro appuntamento con le quote dei mondiali di rugby. Ovviamente abbinato al bello bonus quando giochi live. Allora, prima di cominciare ricordiamoci che con le scommesse e anche con la vita ci vuole un po' di fortuna. Per esempio, l'altra mattina ho fatto la sveglia alle 4 e mezzo per andare nel giardino a vedere la luna rossa e l'eclisso, che ovviamente passa una volta ogni top di anni, quindi c'è poca speranza di vederlo. Ho fatto la sveglia, mi sono svegliato, sono sceso senza svegliare la moglie, sono uscito, sono andato a accarezzare il cane che vive accanto, se no avrebbe fatto una abbaiata della Madonna per svegliare tutto il paesino. Ho guardato su... sì, era tutto nuvoloso. Quindi dai, speriamo di essere ancora qui per la prossima volta che arriva questo eclisse, ma almeno ci ho tentato la fortuna. Allora, ci vuole anche un po' di fortuna con le scommesse? E ora guardiamo le quote delle partite di rugby di domani e dopo domani. E dai, visto che siamo in Italia, anche la partita tra Irlanda e Italia. Cominciamo con le partite di domani tra Galles e Fiji. Come avevo spiegato la prossima settimana, diamo un handicap alla squadra sfavorito, per dare un po' di equilibrio e un po' di bilanciamento tra siamo alle quote. Devo imparare meglio questa parola prima di venire in onda di nuovo. Ovviamente la propria lezione sarebbe quella. E c'è Galles che ha 15 punti di svantaggio contro Fiji in questo handicap finto della partita. Quindi vediamo Galles favorito, soprattutto dopo la vittoria contro l'Inghilterra domenica scorsa. Che siamo ancora un po' di brutto amore perché i nostri giocatori hanno sbagliato nell'ultimo minuto. Dovevano calciare verso la porta per ottenere un pareggio, ma invece hanno tentato la fortuna con la gloria di una meta nell'ultimo minuto che è finito male. E avevamo giustamente perso contro Galles. Una squadra che sta andando bene è la Francia, la France, che ha battuto l'Italia, anche Romania, senza avere troppi problemi. E ha un handicap di 37 contro Canada. Ovviamente Canada vincerà poco in questo torneo, ma una cosa che potrebbe vincere è la squadra con le barbe più impressionanti. Si vede poco rasoio tra squadre di galanee, squadre canadesi quando vede Canada in linea per l'inno nazionale. Tutte barbe lunghe. Chissà quanto cibo è rimasto dentro. Magari mangiano durante la partita, nella mischia. Chissà. Ora prossima è un stra-handicap, cioè Nuova Zelanda contro Georgia, con Nuova Zelanda quotato a 61 punti di vantaggio contro Georgia. Parlo di questa partita con un po' di rabbia, perché ho giocato Georgia contro Argentina, con Georgia con handicap. Stava andando bene, poi Georgia ha perso un giocatore importante, che era espulso per 10 minuti, e in quei 10 minuti Argentina ha fatto 21 punti, che ha fatto la differenza anche per le mie scommesse, che è finito in cestino, come tante delle mie scommesse. Concludiamo con la quarta di domenica tra Irlanda e Italia. Vediamo Irlanda con 19 punti di vantaggio. Ma secondo me questo handicap può cambiare, perché se Sergio Parisa riesce a recuperare per la partita, e ho letto oggi che ha 70% di speranza di giocare nella partita, secondo me questo handicap può scendere. Speriamo per Italia. Chissà se sarà qualche miracolo. Per ora di tutto concludiamo con il fatto che c'è sempre il bonus live per chi gioca in rugby durante la partita, che vi daremo 20% di rimborso sulle scommesse perdente, cioè le mie scommesse, fino a 5 euro. Quindi potete giocare sapendo che se c'è una delusione di una scommessa persa, che avrete qualcosa in ritorno. Per ora di tutto, buon divertimento con i mondiali, e spero che vincete più di me. E forza alla prossima luna rossa. Ciao a tutti e a presto.